Salve a tutti gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questo tredicesimo appuntamento di Polis, primo piano sulla politica, a cura di come Don Chisciotte. Abbiamo deciso di dedicare questa puntata a vari argomenti, uno su tutti però la liberalizzazione del mercato dell'energia voluta all'interno del PNRR precedentemente dai governi Renzi e Gentiloni e poi ovviamente attuata con l'attuale governo Meloni che accettando la terza rata ha ovviamente dato il via a questa procedura di liberalizzazione. Io sono Massimo Antonio Cascone e questa è la nostra sigla. Allora partiamo come al solito con le notizie della settimana dando un nuovo aggiornamento rispetto agli scioperi che si sono avuti negli ultimi giorni. Il 30 novembre a protestare per la mancanza di sicurezza sul lavoro è stato il comparto del trasporto ferroviario. Nonostante la motivazione più che valida, ricordiamo che nel 2023 si contano circa tre morti al giorno per quanto riguarda ovviamente le morti sul lavoro, ecco quindi nonostante una motivazione più che giusta, anche per quanto riguarda questo sciopero, il vicepremier e ministro dei trasporti salvini ha avuto da ridire parlando di scene indegne e inaccettabili nelle stazioni italiane a causa ovviamente dei forti ritardi sulle sulle tratte. Pochi giorni dopo, esattamente il 5 dicembre, c'è stato invece lo sciopero nazionale di 24 ore dei medici, dei dirigenti sanitari e degli infermieri. Secondo le rappresentanze sindacali, tra i motivi dello sciopero c'era la mancanza di assunzioni di personale, la richiesta di detassazione in una parte della retribuzione, risorse maggiori e congrue per il rinnovo del contratto di lavoro, la depenalizzazione dell'atto medico e da ultima la cancellazione dei tagli alle pensioni prevista nella manovra fiscale. Secondo quanto riferito dai vari sindacati, l'adesione è stata del circa l'85%. Rimanendo in tema sanitario ci preme segnalare alcune misure introdotte dal governo nella riforma del PNRR, che come abbiamo detto ha ricevuto l'ok proprio la scorsa settimana. La nuova versione della cosiddetta missione salute all'interno del PNRR taglia rispetto alla formulazione originaria ben 479 strutture territoriali, tra case di cura, centrali operative territoriali e ospedali di comunità, ma taglia anche il numero dei posti letto in terapia intensiva e subintensiva di ben 1.803 unità su tutto il territorio nazionale. Un intervento definito inevitabile dal governo a causa del lamento dei costi di realizzazione di opere preventivate in era pre-pandemica e antecedenti alla crisi energetica. Insomma, nonostante i tanti proclami del governo sul tema salute ad avanzare è solo la telemedicina, tutto il resto invece continua a regredire. Sempre per quanto riguarda il PNRR, tra le ulteriori riforme che ci chiede l'Europa, rientra, come dicevamo anche all'inizio di puntata, anche la liberalizzazione del mercato dell'energia. Difesi estremamente i balneari, Giorgia Meloni invece nulla può e vuole fare per opporsi alla liberalizzazione di uno dei settori più strategici del paese. Per evitare di essere accusata di non garantire agli italiani da possibili rialzi in bolletta, la nostra Giorgia ha però spiegato che la fine del mercato tutelato l'hanno voluta nel 2017 i governi Renzi e Gentiloni. Inoltre la liberalizzazione rientra tra gli obiettivi della terza rata del PNRR oramai già consegnata. Il dado quindi è tratto inesorabilmente. Venendo invece ai lavori parlamentari della settimana, la commissione del bilancio ha votato una serie di emendamenti al decreto legge anticipi. In particolare è stato prorogato di tre mesi lo smart working nel settore privato per i lavoratori con figli under 14, è stata raddoppiata la dote di quest'anno per il bonus psicologico ed è stata introdotta una stretta per i professionisti sul fronte dell'antiriciclaggio. A tal proposito è stato deciso di istituire una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisite dai professionisti nello svolgimento delle loro attività con l'obiettivo di prevenire attività di antiriciclaggio, attività di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Sulla questione salario minimo invece la Camera dei Deputati ha respinto l'emendamento dell'opposizione che puntava a riscrivere il testo della commissione lavoro. Successivamente al voto c'è stata una forte reazione dei leader del Movimento 5 Stelle e del PD con Giuseppe Conte che ha strappato il testo della proposta di legge di cui era primo firmatario, seguito poi anche dalla segretaria del PD Elish Line che ha seguito l'esempio del leader del Movimento 5 Stelle ritirando anche lei la firma dal provvedimento. Settimana quindi non proprio liscia per l'esecutivo che necessita a maggior ragione anche di ribadire la compattezza interna soprattutto dopo gli episodi di Crosetto e del Mastro. Compattezza che rischia di scricchiolare anche a causa delle prossime elezioni europee con Matteo Salvini che ha anticipato i colleghi di governo e ha convocato a Firenze tutti gli alleati sovranisti europei per lanciare la sfida all'Europa dei banchieri e della burocrazia massonica, così li ha definiti, incarnati da Ursula von der Leyen e Christine Lagarde. Non sappiamo quanto sia stata contenta Giorgia Meloni di questa mossa, escogitata da Matteo Salvini mentre lei era impegnata a Dubai per partecipare alla COP8 sul clima dove ha annunciato, condito ovviamente dalla solita retorica del caso, l'impegno dell'Italia a versare 100 milioni di euro al nuovo fondo per i danni provocati dal clima nei paesi più vulnerabili. Quando poi diranno che i fondi per il dissesso ideologico del nostro paese non ci sono, ricordatevelo. Appuntamento internazionale quello di Giorgia a cui ha fatto seguito subito dopo anche un altro, cioè il volo a Belgrado per incontrare il presidente serbo Vucic e per affrontare con lui i temi di immigrazione e integrazione europea dei Balcani, vero obiettivo dell'Unione. Il viaggio sarebbe stato infatti organizzato in accordo con Francia, Germania e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Queste erano le notizie della settimana, per il rapporto del Censis invece ve lo raccontiamo nel riservizio di puntata. Vai Giulio! È un'Italia sempre più vecchia e stanca quella descritta dal Censis, fondazione che da oltre 50 anni svolge una costante e articolata attività di interpretazione della società italiana. Un popolo di sonnambuli, come ci definisce il 57esimo rapporto pubblicato nei giorni scorsi. inerme, di fronte ad una serie di vicende che stanno investendo il nostro presente e pregiudicando il nostro futuro, come il tracollo economico oramai inarrestabile per tutto l'Occidente e gli equilibri geopolitici messi in discussione prima dalla Russia e poi da Israele. Eppure ciò che il Censis non è riuscito a fotografare è la realtà degli attivisti, del cosiddetto popolo del dissenso, che invece da anni ha riconquistato le piazze e i dibattiti, proprio per spronare i nostri connazionali a prendere posizione rispetto a eventi che hanno una portata storica e che stanno contribuendo a modificare inesorabilmente il nostro modo di vivere. Un mondo che vede in prima linea schierati tutti coloro che attraverso l'informazione indipendente hanno cercato di mettere in guardia sull'ordo liberismo perseguito dall'Unione Europea, a danno dei cittadini, sulle folli posizioni atlantiste che hanno chiuso le porte al nostro principale fornitore di gas e alleato, sulle atrocità del governo israeliano sostenute dai governi occidentali, sull'incostituzionalità dell'imposizione di un vaccino sperimentale e da ultimo sulle distopiche applicazioni dell'infrastruttura digitale nelle nostre città. Tanti sassolini in un mare di mainstream, che persegue come unico scopo quello di rendere il popolo italiano esattamente come descritto dal rapporto del Censis. E allora ecco, per tornare all'attualità, apparire davanti ai nostri occhi il prossimo problema, la liberalizzazione del mercato dell'energia, uno dei settori strategici di una nazione che viene dato in pasto al capitale europeo. Nonostante in fondo sono tutti d'accordo, anche in questo caso subito è partito il teatrino mediatico, con le opposizioni che contestano mancanze di tutele per noi poveri consumatori, che rischiamo ulteriori aumenti in bolletta, e il governo, attraverso le parole di Giorgia Meloni, che ricorda come la fine del mercato tutelato l'hanno voluta nel 2017 i governi Renzi e Gentiloni, legandola indissolubilmente all'osannato PNRR, della serie, senza sovranità monetaria, l'unico modo per ottenere gli euro europei è cedere anche tutto il resto, e meno male che questo è un governo di destra. Infine, come tutte le storie hollywoodiane che si rispettino, ecco spuntare l'eroe, il principe verde Matteo Salvini, che risorpassa a destra Giorgia Meloni, in vista delle elezioni europee presentandosi agli italiani come il difensore degli interessi dei cittadini, contro le massonerie burocratiche europee. La corsa per accaparrarsi l'elettorato è ufficialmente iniziata. Al popolo del dissenso rimane il compito di strutturarsi per capire cosa vuole e come ottenerlo. Allora, eccoci tornati in studio, do subito il buongiorno e il benvenuto ai miei ospiti, il professor Luca Lanzalago, buongiorno. Buongiorno a tutti. L'avvocato costituzionalista Umberto Del Noce, ciao Umberto. Buongiorno, ciao. Allora, come dicevamo, nel servizio questo PNRR è più croci che delizie, questo d'altronde non ci stupisce più di tanto, ma è giusto anche approfondire. Abbiamo visto che la nuova missione salute prevede una serie di tagli alla sanità che certamente non ci fanno piacere, ma il tema centrale a cui abbiamo deciso di dedicare la puntata è la questione della liberalizzazione del mercato dell'energia, uno dei settori più importanti e maggiormente strategici per un paese. E ovviamente anche tema, quello dell'energia, che successivamente alla fine dei rapporti commerciali e diplomatici con la Russia, è ovviamente al centro delle preoccupazioni dei nostri leader europei. Allora, professore, vengo subito da lei per chiederle un po' un'opinione su come sta procedendo questo PNRR dopo l'ok dell'Unione Europea alla revisione fatta dal governo e cosa dobbiamo dire appunto rispetto a queste questioni. Sì, il PNRR si sta rivelando, come l'han definito due economisti di chiara fama, cioè Boeri e Perotti, nel loro libro sull'argomento, una grande ubriacatura, cioè è arrivato molto più denaro di quanto lo Stato italiano, le regioni, lo Stato inteso in senso lato, sia in grado di gestire. Quindi non ci sono, detta in maniera più elegante, non ci sono le capacità amministrative per gestire queste enorme quantità di denaro. Però questo denaro quando arriva pone dei vincoli che vanno rispettati. e quindi ecco, il PNRR è questo. Sono le enormi difficoltà dei piccoli comuni, sono stati, praticamente i piccoli comuni stanno restituendo soldi, sono stati cancellati circa mille progetti per un totale di 42 mila interventi sul territorio. C'è stato il fallimento di fatto dell'operazione Asili e questo è abbastanza paradossale per un governo che fa della natalità uno dei suoi cavalli di battaglia. Quindi il PNRR si sta rivelando quello che avevamo detto un po' di tempo fa, cioè una enorme trappola, per cui appunto lo Stato, le regioni, i comuni sono bloccati, non riescono a spendere soldi, ma sono obbligati, invece siamo tutti obbligati a rispettare quanto gli impegni presi. Vorrei leggere qua due righe di un articolo molto chiaro sul punto di Walter Galbiati, è uscito su Repubblica e sono quattro righe, ma molto chiare. Con l'Europa e le grandi istituzioni internazionali funziona più o meno così. Quando un paese ha bisogno di soldi, aggiungo io fra parentesi, cioè di euro, che possono arrivare sotto forma di finanziamenti a tassi agevolati o a fondo perduto, quindi senza l'obbligo di essere istituiti, l'Unione Europea o il Fondo Monetario e altre istituzioni ancora sono disposti a concederli i soldi, a patto che il paese introduca alcune riforme che nell'idea dei finanziatori possano agevolare la crescita dell'economia. sappiamo quali sono queste riforme, deregolamentazione, privatizzazioni e liberalizzazioni. Quindi queste si devono fare, come si spendono i soldi è un'altra questione. E arriviamo allora alla liberalizzazione del mercato dell'energia. non c'era momento peggiore per fare questa operazione, le imprese e le famiglie sono già state disanguate dalle bollette durante tutto l'anno, i mercati sono estremamente turbolenti, e un dato da tenere presente, vediamo di cosa si tratta, in cosa consiste, perché i dati sono interessanti, in cosa consiste il passaggio da un mercato tutelato dove era la RERA, cioè l'autorità per la regolazione delle energie, delle reti idriche e dell'ambiente, a fissare i prezzi, ad adeguarli trimestralmente a un mercato libero, dove appunto i prezzi si fissano sul mercato. Quante persone riguardano, quanti sono gli utenti interessati? Sono di fatto 4 milioni e mezzo, perché gli altri 4 milioni e mezzo di utenti sono o più anziani, hanno più di 75 anni, sono disabili o considerati in genere fragili, quindi riguarda 4 milioni e mezzo di persone. Quanti sono, questo è il dato che forse è bene, non si conosce poco, ma è bene invece conoscere, quanti sono gli operatori sul mercato, gli operatori con cui potenzialmente ognuna di queste 4 milioni e mezzo di famiglie dovrà o potrà interagire. Allora, per quanto riguarda l'energia elettrica sono 648 operatori, per quanto riguarda il gas sono 529. Allora, tenete conto, come dato di riferimento che ho controllato stamattina, il numero di qualità di formaggi italiani, freschi, stagionati, spalmabili e erborinati sono 487. Allora, quando voi andate a fare la spesa fate una valutazione comparativa qualità-prezzo fra 487 tipi di formaggio? No. Ecco, invece dovrete farla fra 648 operatori per l'energia elettrica e 529 per il gas. Quindi c'è un onere, di fatto è un onere amministrativo che viene scaricato sulle famiglie. Se voi andate a vedere su internet ci sono siti dove vengono fatte comparazioni, vi suggeriamo noi il miglior operatore, come non farsi imbrogliare eccetera eccetera. E lui diceva bene, maggiori oneri amministrativi per le famiglie e ci guadagniamo però, no? Facciamo un po' di fatica a districarci fra queste tariffe che, lo sappiamo, non vengono mai fornite, non vengono mai comunicate in modo trasparente, no? Quindi ci vogliono delle competenze per scegliere quale operatore tenere e lui dice però ci guadagniamo. No, ne va la pena, il gioco vale la candela. No, il gioco non vale la candela perché questi sono dati ufficiali sempre della... dunque sono qua e sono abbastanza della Rera, sono dati ufficiali della Rera, quindi sono dati ufficiali di un'agenzia, di un'autorità amministrativa indipendente pubblica, quindi stiamo parlando di una di fonte più che autorevole. Ecco, ci dice questo, questo rapporto della Rera che nel primo semestre 2023, quindi i dati riguardano solo il primo semestre, dato che il secondo non è ancora finito, sono passati autonomamente, volontariamente, spontaneamente al mercato libero 547 mila famiglie, 547 mila famiglie. Di queste 547 mila, 516 mila hanno visto aumentare le bollette, non ridursi e solo 31 mila hanno visto invece le loro bollette ridursi, cioè in termini percentuali solo il 6% di famiglie ha avuto dei vantaggi da passaggio al mercato libero, mentre invece il 94% delle famiglie è stata penalizzata, ha pagato di più. Sono certo 547 mila famiglie, quindi poco più del 10% di tutti quelli che saranno interessati all'operazione, però è un dato significativo e aspettiamo ovviamente con ansia i dati relativi al secondo semestre. Se mi date 30 secondi un dato molto significativo per capire cosa vuol dire spendere di più, per dire vabbè spendo di più quanto, ve lo dico subito, sempre dati a Rera, non sono calcoli miei, ma sono dati forniti dalla Rera, allora la media del costo dell'energia elettrica nel mercato libero, chiaro, media, è di 2378 euro all'anno ovviamente, forse al mese. Il miglior offerente sul mercato libero offre un contratto annuale per 1760 euro, quindi la media 2300, il migliore, quello più economico, 1760 euro, quindi c'è qualcuno che offre dei contratti molto superiori che 1760 euro, perché se no non si spiegherebbe una media di 2300 euro. Ecco, allora sapete qual è la spesa del costo del contratto sul mercato tutelato esattamente nello stesso periodo? Era di 1769 euro, cioè il mercato tutelato garantisce un costo per le famiglie pari all'offerta migliore di tutto il mercato libero. Quindi, conclusioni, se vi vengono a dire che il mercato libero va a vantaggio del consumatore, vi stanno imbrogliando, se vi sentite dire che, questo è stato detto, non me lo sto inventando io, se vi sentite dire che, certo, i costi dei contratti sono così alti, perché? Perché il consumatore non è informato, è un mercato difficile e il consumatore, l'utente deve imparare a stare in questo mercato, ecco, anche lì vi stanno prendendo in giro, perché dire che uno deve imparare a scegliere fra 648 fornitori è semplicemente una presa in giro. Infatti è un mercato dove si stanno sviluppando truffe una dietro l'altra, per cui, fra l'altro, bisogna anche stare estremamente attenti a quello che viene chiamato telemarketing, ma di fatto sono tentativi di truffa attraverso i call center. Ecco, diciamo queste sono le conseguenze dell'applicazione della concorrenza sfrenata a tutti gli ambiti della vita dei cittadini, ridotti ovviamente a consumatori che difficilmente si possono informare, che difficilmente possono star dietro a così tante realtà che forniscono energia, che forniscono luci, che forniscono gas e quindi poi necessariamente sono costretti ad accettare un contratto che magari gli sembra anche più che altro tutto sommato valido, ma in fin dei conti poi nel corso dell'anno andando a spalmare quei soldi invece, come lei ci ha fatto notare, c'è un aumento non indifferente. Sì, posso aggiungere questo? Allora, se non si... perché questo è ancora peggio, se vogliamo. Se non si sceglie, se uno dice, no mi sono distratto, non ho scelto, si finisce in un pacchetto di contratti che poi viene messo all'asta e spartito tra i vari operatori al miglior offerente. Quindi vuol dire che uno si trova automaticamente, alla faccia della sovranità del consumatore sul libero mercato, si trova automaticamente un gestore piuttosto che un altro. A sua insaputa, questa volta l'uso dell'espressione è appropriato. Insomma, un po' come carne da macello, ci possiamo sentire. Aggiungere solo questo... No, a me ti cedo proprio la parola, Umberto, perché volevo giusto ricordare che il mercato dell'energia inizierà ufficialmente il passaggio al mercato libero e fissato al 10 gennaio. Ecco, volevo chiedere anche a te un'opinione, visto comunque poi il settore strategico così importante per il paese e per la vita dei cittadini. Sì, infatti io voglio aggiungere questo, che è vero che adesso appunto l'Unione Europea ha comunque di fatto imposto questa liberalizzazione, in realtà comunque il mercato, in particolare delle tariffe del gas, era già stato liberalizzato da Letta, nei primi anni 2000, perché comunque la Rera si deve, nel 2003, rifare ai livelli di tariffe imposti sul mercato libero, quindi stabilite in Olanda. E quindi già nel 2003 si è assistito a un aumento delle tariffe. Ecco, quindi io quello che vorrei, diciamo, così affrontare in questo intervento è più che altro questo, cioè che l'ingresso nell'Unione Europea ha di fatto comportato una decisione a un modello liberista, che ci ha riempito le orecchie della cantilena secondo cui il mercato libero e quindi le liberalizzazioni e le privatizzazioni sono fondamentali per l'efficienza economica del mercato e questa efficienza si dovrebbe tradurre magicamente e automaticamente in un abbassamento dei costi e quindi un beneficio per il consumatore, perché lo Stato in qualche modo non è idoneo a gestire attività economiche e soprattutto non avendo l'obiettivo principale nel massimizzazione dei profitti e quindi nell'abbassamento dei costi, non avendo questo obiettivo principale allo Stato, ne deriva un'inefficienza che si traduce in un costo per i cittadini, ma in realtà è proprio questo il punto, cioè il fatto che lo Stato non abbia l'incubo della massimizzazione dei profitti significa che lo Stato può agire anche in perdita economica, se ritiene che abbia un'utilità marginale superiore a livello macroeconomico, per esempio in un momento di crisi. E in effetti se ne vediamo, dall'inizio di 90 con Amato, poi Prodi, poi Bersani, quindi a guida soprattutto dalla sinistra, Ligia nella Dempere agli ordini liberisti dell'Europa, è avvenuto in Italia un clamoroso caso di sia privatizzazioni che liberizzazioni, che sono due aspetti diversi dello stesso principio, perché la privatizzazione interessa soggetti economici, per esempio l'Eni, l'Enel, mentre la liberalizzazione attiene ai servizi che vengono quindi affidati o concessi ai privati. E il nostro Paese di fatto ha visto smantellare la propria forza economica e questo ha due ripercussioni, dal giusto punto di vista a livello strategico, perché certi settori economici sono fondamentali per la libertà di uno Stato e quindi per l'esercizio preciso e completo della propria sovranità e dall'altro punto di vista per i consumatori. Allora, se noi guardiamo questi 30 anni, è evidente ormai che l'attività secondo cui la liberalizzazione si traduce in un risparmio per le famiglie o per i consumatori è assolutamente falso, perché in ogni ambito in cui è avvenuta la liberalizzazione, all'inverso si è assistito a un aumento di costi, perché la corsa a massimizzare i profitti avviene sulla pende dei consumatori. Allora, io per essere preciso vorrei rileggere velocemente una ricerca che è stata fatta sul tema, che ha visto per esempio che dal 94 ad oggi le assicurazioni sui mezzi di trasporto ha visto un aumento delle tariffe del 189,3%, servizi bancari finanziari liberalizzati sempre dal 94 un aumento del 115%, pedagio autostradali dal 99 in cui sono stati liberalizzati un aumento del 70%, trasporto ferroviario un aumento del 58,3%, il settore del gas appunto, dal 2003 in cui è stato già liberalizzato le tariffe, sono aumentati del 43,2%, servizi postali aumentati del 40%, l'energia elettrica e i prezzi sono saliti del 13%, quindi voglio dire, ormai possiamo essere sicuri che questo ingresso nel mercato libero, o meglio la fine del mercato di tutto lato, sicuramente significherà un aumento di costi per le famiglie. Come diceva il professore, nel momento meno opportuno, perché in un momento in cui in realtà tutti gli ambiti sociali affrontano un grande aumento di costi e un grande aumento dell'inflazione, però è evidente che questa visione del mercato dell'economia ha indebolito gli stati e ha indebolito i consumatori, perché gli stati hanno smantellato la propria forza economica, ha ceduto la propria forza economica a gruppi stranieri soprattutto, che hanno quindi interesse a delocalizzare la ricchezza che viene diciamo in qualche modo espropriata dagli stati, e hanno indebolito le famiglie consumatori perché hanno aumentato di grosso i costi della vita, i costi della vita e dei servizi in un contesto in cui l'inflazione, quindi in generale il costo dei beni è aumentato, mentre gli stipendi sono rimasti medesimi o si sono abbassati, per cui di fatto si è assistito a un grosso impoverimento per i lavoratori e ovviamente tutta questa ricchezza è stata espropriata di fatto dal capitale, è spesso all'estero, per cui io invito a non cedere in questo senso a propagande di nuovo liberali che ormai hanno provato tutta la loro limitazione in oltre 30 anni di liberalizzazioni sfrenate. Umberto direi che hai fatto un quadro perfetto della situazione, anzi queste due parole dovrebbero essere scolpite sulla pietra perché hai ricostruito perfettamente l'aumento che c'è stato, i motivi per cui c'è stato questo aumento e le conseguenze ovviamente dell'impoverimento della popolazione europea, perché è una cosa che comunque riguarda tutti, ma soprattutto poi italiana che a differenza dei paesi europei non riesce neanche poi ad adeguare gli stipendi al costo della vita che perennemente va ad aumentare, quindi è chiaro che la popolazione italiana forse più delle altre all'interno dell'Unione Europea sta subendo questi perenni aumenti, questi costanti aumenti riguardanti tutti gli ambiti della vita proprio a causa di questa ordo-liberalizzazione che è avvenuta. E direi che probabilmente forse questo è uno dei motivi principali per cui ad oggi gli italiani sono stanchi, sono affaticati e sono poco propensi a reagire di fronte a tutto ciò, forse perché tutte queste negatività che ogni giorno devono affrontare poi li portano a non riuscire a trovare il tempo per informarsi, per capire quali sono i punti su cui battere per affrontare tutti questi problemi, perché più o meno è questa la fotografia che ha fatto il Censis nel suo rapporto, se Giulio può mandare anche le immagini, perché appunto il Censis ha fotografato una popolazione italiana diciamo dall'aspetto molto poco invidiabile, una popolazione che non ce la fa a reagire rispetto a tutto quello che sta avvenendo intorno ad essa e che non riesce a reagire alla crisi economica, il Censis parla proprio di questo, di una crisi economica sempre più importante e nonché ovviamente la situazione geopolitica con la tensione prima tra Russia e Ucraina che continua ad esserci, alla quale poi si è giunta anche quella a Gaza a causa dell'attacco prima di Hamas e poi della risposta ovviamente forte e anzi anche genocidica da un certo punto di vista di Israele. Ecco, un paese di sonnambuli dice il Censis, allora professore le chiedo un po' di farci una panoramica più dettagliata di quello che dice il rapporto, se concorda con quello che è previsto al suo interno oppure se il Censis forse non ci ha detto tutto? Allora, il rapporto del Censis contiene dei dati, non entro nel merito dei dati anche se il modo in cui vengono presentati è abbastanza discutibile da un punto di vista metodologico, si danno delle percentuali senza capire, senza spiegare rispetto a cosa è calcolata quella percentuale eccetera eccetera però non entro nel merito strettamente metodologico, mi sposto invece sull'altro contenuto del rapporto e cioè l'interpretazione che viene fornita di questi dati. Ecco qua io non sono affatto d'accordo con quello che dice il Censis e proverò a fornire un'interpretazione radicalmente diversa, però intanto vediamo, vi leggo alcune frasi proprio che sono prese dal rapporto, il pdf immagino poi verrà messo in descrizione il link, va la pena leggerlo, leggere il capitolo. Intanto qual è la tesi del Censis è presto detta, subito all'inizio, nell'incipit, i sonnambuli ciechi dinanzi ai presagi. La società italiana sembra affetta da un sonnambulismo, vorrei chiarire che il sonnambulismo è una categoria che non rientra nella sociologia, non rientra nelle scienze sociali, casomai in altri tipi di discipline, comunque sonnambulismo diffuso precipitate in un sonno profondo del calcolo raziocinante che servirebbe per affrontare dinamiche strutturali di lungo periodo dagli effetti potenzialmente funesti. Questa è la frase chiave del rapporto. Il sonnambulismo prosegue il rapporto, il sonnambulismo come cifra delle reazioni collettive dinanzi ai presagi, non è solo attribuibile alle classi dirigenti, e qua già inizia il rapporto a in qualche modo tutelare le élite, non è solo attribuibile alle classi dirigenti, ma è un fenomeno diffuso nella maggioranza silenziosa, tra virgolette, degli italiani. Vi ricordo maggioranza silenziosa è un termine che evoca un movimento nato a Milano parecchi decenni fa, poi ha dato esi, insomma fu la prima volta che la destra emerse, ecco questa è la maggioranza silenziosa di destra, emersa e si fece sentire. Allora arriviamo ai dati, questo fenomeno diffuso si caratterizza perché gli italiani sono resi più fragili dal disarmo identitario e politico al punto che il 56% è convinto di contare poco nella società, feriti da un profondo senso di impotenza se il 60% o 65% tra i giovani prova una grande insicurezza a causa dei tanti diversi inattesi rischi, delusi dal ciclo storico della globalizzazione che per il 69.3% avrebbe portato all'Italia più danni che benefici. Allora io per dirla con una battuta, questi che ci descrive non sono sonnambuli, è gente molto sveglia che ha capito che cosa sta succedendo nella realtà, io qua non ci vedo sonnambulismo, vedo qualcuno che è sveglio e che vede quello che sta accadendo e che è accaduto. Poi ci sono un po' di tabelle, chi ha voglia se le va a vedere ma non è che aggiungano molto le cifre essenziali, andiamo a vedere poco più avanti un capitolo intitolato, il census usa questo, sempre usato questo linguaggio evocativo, assolutamente non rigoroso, evocativo, poi sono dei meme che entrano nel linguaggio comune, viaggiano per conto proprio, e quindi li ritroveremo poi nei commenti dei giornalisti, negli editorialici. Ecco questo il capitolo è intitolato Il mercato delle emotività, agli sforzi razziocinanti di comprensione dei fenomeni e di confronto su ipotesi alternative per favorire la ricerca condivisa di soluzioni praticabili, cioè aggiungo io quella che normalmente è la politica in un regime democratico, si sostituisce la proiezione nel prisma dell'eccesso emotivo che sollecita reazioni paradossali, così troviamo terreno fertile, fughe millenaristiche, paure amplificate. Quindi se ci sono le paure amplificate è tutta colpa della società e di questi sonnambuli che oltre a essere sonnambuli hanno pure degli incubi. Perché dicono tutto ciò? Perché l'84% degli italiani teme il clima impazzito, sempre più incontrollabile e ostile, il 73% ha paura che i problemi strutturali risolti del nostro paese provocheranno nei prossimi anni una crisi economica e sociale, per il 73% gli sconvolgimenti globali sottoporranno l'Italia la pressione di flussi migratori sempre più intensi e non saranno in grado di gestire l'arrivo di milioni di persone. Per il 70,6% i rischi ambientali, quelli demografici e quelli ora connessi alla guerra, provocheranno un crollo della società favorendo la povertà diffusa e la violenza. Ripeto, secondo voi sono dei sonnambuli questi, per me sono sveglissimi. Hanno capito esattamente quello che sta succedendo. Allora, poi ci sono altre chicche. Ecco, c'è questo capitolo, il tempo dei desideri minori. Frase, questo viene citato come un elemento di crisi, un indicatore di crisi. Il 74,8% dei lavoratori oggi dichiara esplicitamente di non voglia di lavorare di più per poter consumare di più e non ha intenzione di farsi guidare come in passato dal consumismo. Sonnambuli, questo il 74,8% dei lavoratori semplicemente rifiuta quello che Lacan chiamava il discorso del capitalista. Lavora, così poi consumi e vai avanti come un criceto in una ruota. Anche qui queste persone, notate subito dopo allarme, l'87,3% degli occupati, per l'87% degli occupati, la scelta di fare del lavoro il centro della propria vita sarebbe un errore. Se questo è il sonnambuli, voglio essere anch'io, voglio anch'io soffrire di sonnambulismo. In ultimo, cito questo perché è un tema che ricorre spesso nelle nostre conversazioni, di certo le successive emergenze amplificando il senso di vulnerabilità individuale hanno attivato un ripensamento diffuso del senso della vita e delle cose importanti a cui dedicare le proprie energie. Noi sappiamo che queste emergenze continue, questa fibrillazione continua ha portato e porta anche ad altro. Allora ecco io in due minuti vorrei fornire una lettura alternativa di questi dati. I dati sono quelli, non li metto in discussione. L'interpretazione. Allora la psicologia, l'etologia anche, sostengono che da decenni questo, che di fronte ad una situazione di stress, un essere vivente, quindi un essere umano o un animale, può, questo riguarda gli etologi, può reagire in tre modi, sono le tre F, to fight, lottare, to fly, fuggire, to freeze, congelarsi, fermarsi, bloccarsi, no? Come fanno quegli insetti che fanno finta di essere morti per uscire dal, per scampare il pericolo. Ecco allora, se noi, per me poi si può aggiungere una quarta F che è quella di diventare foolish, diventare folli. Ecco, se noi leggiamo i dati del Censis, vediamo che le cose quadrano, e cioè che davanti a una situazione di stress, stress reale e in parte costruita socialmente, i giovani che cosa fanno? Scelgono di fly, to fly, di andarsene, sono più le persone, più gli immigrati, questo è un dato importante, c'è un, quei dati del Censis riportano flussi migratori verso l'estero di giovani elevatissimi e quelli che se ne vanno non sono come gli emigranti del dopoguerra, cioè gente che va a cercare lavoro poco qualificato, no? Questi sono lavoratori altamente qualificati, quindi fly è la della soluzione che viene adottata, fight non è possibile e quindi rimane la terza soluzione, to freeze, e cioè congelarsi, bloccarsi, non è sonnambulismo, è bloccarsi, un blocco davanti all'impossibilità di adottare le altre soluzioni. Oppure ce n'è una quarta, qua accenno poi, vorrei approfondire in altro momento, il tema c'è quella del diventare foolish, diventare folli e allora tutta una serie di atti a cui assistiamo, ultimo ma non ultimo l'omicidio di cui abbiamo già parlato di Giulia Cecchettini, ma i tre femminicidi che sono seguiti a questo e poi appunto omicidi, di gente che ammazza a calci delle capre, gente sul giornale di ieri, uno che cercava di ammazzare a randellate un cinghiale, è intervenuto un animalista e lui ha preso a randellate l'animalista. Ecco, per me questa è la quarta reazione, cioè la follia, la follia generalizzata, diffusa, non come problema, non più, se mai lo è stato, come problema individuale, ma come problema sociale, come risposta collettiva, quando è vietata o impedita il quarto tipo di reazione, cioè quella della lotta, to fight. Ecco, professor, io proprio a proposito della questione lotta, secondo me il census non ha preso una fetta della popolazione, non ha inquadrato nei suoi dati una fetta della popolazione che è quella parte, anche se è residuale, di popolazione che in questi anni ha cercato non di lottare fisicamente, ovviamente contro queste problematiche, ma quantomeno ha cercato di lottare per farle uscire fuori, per svegliare un po' le persone, le coscienze rispetto alle problematiche e anche alla necessità di agire rispetto a queste problematiche, piuttosto, come ha detto lei, che scappare o diventare folli. Perché comunque in questi anni le persone vuoi prima per la questione vaccinale e il Green Pass, vuoi poi per la guerra tra Russia e Ucraina e comunque l'interruzione dei rapporti sia commerciali che diplomatici dell'Italia nei confronti di quello che è sempre stato un partner commerciale fondamentale, ecco tantissime persone si sono riattivate, hanno riconquistato e ripreso le piazze, cosa che non succedeva da tanto tempo e durante il periodo pandemico e poi anche successivamente hanno cercato di lottare prima di tutto per i propri diritti, lì parliamo nella questione Green Pass e poi anche per svegliare un po' le persone sulla necessità di attivarsi socialmente, politicamente, civicamente per cercare di cambiare quest'Italia, che comunque a meno che non sei tra coloro che scappano, che fuggono, che vanno via, è il nostro paese, è la nostra nazione e quindi in qualche modo o facciamo il possibile per cambiarlo oppure subiremo tutto quello che lei giustamente ha descritto. Ecco quindi secondo me il census ha evitato di ricordare che una parte della popolazione molto attiva c'è stata, c'è tuttora anche se in forma forse minore ed è una parte forse, è la parte più viva forse, quella che veramente si interessa dei problemi e che non ha accettato il destino che invece dobbiamo, sembra insomma volerci far soccombere. Quindi speriamo che ovviamente questa parte di popolazione cresca sempre di più, anche perché io poi sono tra i giovani che sarebbero potuti espatriare alla ricerca di miglior fortuna, ma sarà per un senso di appartenenza, sarà per un attivismo. Spero che invece tanti altri come faccio io e come fanno anche altre persone di varietà lottino per un presente e un futuro migliori, questo ci tenevo a dirlo. Umberto chiudiamo la... Sì, volevo solo aggiungere una cosa per far capire qual è il mood, qual è l'orientamento di questo rapporto Censis? In effetti nelle considerazioni generali viene presa, viene menzionata la partecipazione, ma sentite come viene menzionata. La partecipazione alla vita democratica e la presa di posizioni davanti alle grandi questioni etiche e politiche, come conflitti etnici o religiosi, si muovono verso tutto e contrario di tutto. Quindi una superficialità incredibile, cioè nell'analizzare, quasi nel macchiettizzare, da un lato ci sono i sonnambuli, che abbiamo visto che sono tutt'altro che sonnambuli, sono sveglissimi, dall'altro quelli che partecipano sotto l'onda emotiva, non raziocinante, e ci troviamo dentro di tutto. È veramente grave perché poi tutto il rapporto Censis entra sistematicamente nel discorso pubblico, cioè non è che passa inosservato. Mi taccio, scusate. Certo. No, no, ci mancherete. No, a proposito di questa macchiettizzazione, noi anche nel nostro servizio di puntata abbiamo, insomma, voluto lanciare anche uno spunto e una critica costruttiva al dissenso, cioè il compito del dissenso è arrivato a questo punto dopo anni di manifestazione e di rivendicazioni, è quello di doversi strutturare per capire cosa volere e come ovviamente raggiungere quella cosa. Quindi da un certo punto di vista io posso anche comprendere la macchiettizzazione che fa il Censis, perché è vero che il dissenso italiano non è strutturato e anzi al suo interno vede molte contraddizioni, però è proprio compito di questa parte della popolazione maggiormente attiva e maggiormente consapevole quella di trovare poi le strade migliori per poter ridare vigore a un'Italia oramai in decadenza. Un'Italia oramai in decadenza e così passo al prossimo argomento che sicuramente non sarà Salvini, almeno nell'opinione personale, a salvare nonostante lui si sia proclamato difensore degli interessi dei cittadini europei contro le burocrazie massoniche europee, ovviamente in questo caso delle istituzioni europee, nell'incontro che ha organizzato a Firenze con una serie di leader sovranisti o comunque di destra dell'Europa. Allora Giulio andiamo con il contenuto di puntata e poi passo la parola a Umberto. Grazie. 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 Ecco ovviamente Marine Le Pen e il collega tedesco non erano presenti all'incontro ma si sono connessi in videoconferenza, gli inviti sono stati per tutti i sovranisti europei e moltissimi hanno risposto. Allora Umberto, dicevamo un Salvini che risorpassa a destra, potremmo dire così, Giorgia Meloni che da quando è al governo insomma ha abbassato sempre di più la testa rispetto a quelli che sono chiamiamoli poteri forti delle istituzioni europee oltre che internazionali come la Nata ad esempio viste le posizioni prese sia per quanto riguarda la Russia che per quanto riguarda Israele, un Salvini che scalpita perché ha bisogno di riconquistare un certo spazio di manovra che impeditogli forse in Italia può ritrovare in Europa. Allora come vedi la situazione europea in vista delle elezioni del 2024? Davvero queste destre possono andare a cambiare l'Europa? Poi soprattutto possono cambiarla in meglio secondo te? Ma allora io comunque di base e credo come me la gran parte degli elettori nutro diffidenza verso queste diciamo dichiarazioni antisistema fatte in campagna elettorale visto che ormai siamo tristamente abituati a vedere diciamo movimenti o partiti dal Movimento 5 Stelle a Fratelli d'Italia e alla Lega stessa presentarsi come antisistema in campagna elettorale poi una volta giunti nei luoghi in cui si prendono le decisioni appiattirsi ai dicta di chi sta più in alto e io comunque e come me credo di nuovo a molti spettatori si ricorderanno che lo stesso Salvini ha fatto campagna elettorale basta Euro e aveva candidato per esempio anche noti esponenti diciamo del dissenso anti-europeista salvo poi metterli più o meno carinamente piacere e comunque appiattirsi un po' ai dicta europei e la stessa e con lo stesso Fratelli d'Italia che dopo aver dichiarato usciamo dall'Europa ha fatto tutt'altro e anche addirittura poco tempo fa ne aveva già parlato la Melonia ha negato o meglio ha detto di non ricordarsi di aver mai detto di essere per l'uscita dell'Europa quindi questo per dire che comunque di base nutrono una certa diffidenza di base verso dichiarazioni fatte in campagna elettorale perché di fatto questa è una campagna elettorale in un momento in cui Salvini di sicuro non è uno sprovveduto politicamente ha fiutato ed è palpabile che ci sia una grande soddisfazione trasversale dei cittadini europei e in particolare di quelli italiani verso le politiche europee e di sicuro questi tasti sono dei cavalli vincenti in campagna elettorale modo comunque diciamo una moderazione in realtà nei toni perché si è passato da basta euro a adesso è basta i tagli per cui ecco basta i tagli è un po' relativo di sicuro non va a toccare diciamo i quelli che sono i punti strutturali i problemi strutturali di quest'unione europea non è tanto una questione di tagli è una questione proprio di impostazione macroeconomica e del concetto macroeconomico e anche politico dell'austerità per esempio e dell'aver voluto inserire in costituzione il principio del pareggio di bilancio che di fatto è un principio ideologico e non prettamente economico quindi far passare queste misure ideologiche come anche il il rapporto debito pila 3 per cent eccetera come misure diciamo tra le rette scientifiche e ideologico in sé e di questi gli argomenti che andrebbero toccati i tagli in sé è relativo detto questo c'è la capacità poi di influenzare l'europa di creare una nuova europa questa domanda complessa perché diciamo impone alcuni punti alcuni punti sul da analizzare innanzitutto il peso dei gruppi politici perché il parlamento europeo diciamo un gran peso nel processo legislativo c'erano i gruppi politici composti dei partiti nazionali allora ad un certo punto di vista ai sondaggi in effetti dicono che identità e democrazia il gruppo anti europeista tra virgolette è in grande ascesa e diciamo in questo momento i sondaggi danno lo danno superiore al gruppo dei conservatori isolatamente questi gruppi non hanno ancora la forza di diciamo forse alla guida del parlamento europeo vero è che si si unissero cosa che precisamente ha detto salvini cerchiamo chiamando il centro destra a compattarsi che avessi italiano però se si compattasse anche il centro destra europeo quindi il gruppo dei conservatori il gruppo degli anti europeisti ecco che gli aspetti avrebbero i numeri per per andare a contare perché arriverebbero a competere con il partito popolare europeo perché danno circa 85 seggi all'identità di democrazia e circa 80 più o meno ai conservatori qui sommati arrivano quasi 170 in questo momento il partito popolare europeo era 176 e i socialisti secondo posto 145 per cui diventerebbe un gruppo che si compattasse influente sicuramente in europa nelle composizioni per esempio delle commissioni permanenti del parlamento europeo e questo è un fatto però c'è da dire che il sistema legislativo europeo ha un deficit strutturale strutturale democratico cioè che uno forse l'unico caso di un parlamento europeo che ha il potere legislativo ma non ha l'iniziativa potere di iniziativa legislativa quindi ha il potere di bloccare o modificare norme proposte della commissione europea ma non ha il potere di proporre iniziativa legislativa e questo ovviamente limita la capacità del parlamento europeo a incidere sull'identità dell'unione europea e a così cambiare l'europa perché di fatto il suo operato si può cambiare orientamento ma all'interno dei limiti imposti di fatto dalla commissione europea quindi a meno che non cambi diciamo il funzionamento e quindi i trattati europei in merito al funzionamento nel senso di dare più potere di iniziativa legislativa al parlamento europeo altrimenti comunque di fatto il potere del parlamento europeo di modificare l'assetto europeo di modificare la politica internazionale europea è grandemente limitato e allora ci ritroveremo davanti a rischi slogan di campagna elettorale poi diciamo si infrangerebbero di fronte a tutte quelle condizionalità che di fatto poi frenano gli impidi e rivoluzionari di tutti questi soggetti politici che però di fatto vivono del sistema che vorrebbero cambiare assolutamente assolutamente concordo appieno anzi noi poi anche grazie al professore nelle scorse puntate abbiamo visto che una possibilità di modifica del funzionamento istituzionale europeo c'è ma non certamente per garantire maggiore democrazia anzi come ci ha spiegato il professore si va si potrebbe andare verso un maggiore accentramento dei poteri in mano alla commissione e quindi a maggior ragione questi queste dichiarazioni della destra europea corrisponderebbero ancora di più a degli slogan privi poi di di efficacia benissimo prego rapidissimo eh su questo discorso del ruolo che possono avere che può avere il fronte del dissenso le forze di senso ecco io voglio riprendere una brevissima frase di Salvini quando ha detto un'altra Europa è possibile ecco a mio parere l'errore madornale delle forme delle forze di sinistra della sinistra radicale delle forze anche liberali è stato lasciare il monopolio di questa espressione a Salvini perché ehm adesso eh come mi ha insegnato un grande autocitarsi è sempre da maleducati però qua mi autocito io nel mio libro su l'euro e la democrazia dico proprio che un'altra Europa è possibile ma questo chi ce lo insegnava? Yanis Varoufakis in Grecia qui in Italia si è lasciato il monopolio di queste cose a eh Salvini quindi essere critici nei confronti dell'Europa vuol dire essere automaticamente di destra fascisti nazisti razzisti omofobi e e quant'altro questo è un ruolo fondamentale che possono avere le forze del dissenso sta nello sdoganare il eh questa matrice eh necessariamente di destra su una visione dell'Europa diversa almeno diciamo che è possibile ecco perché sennò davvero qua eh eh io penso che sia eh che sia alla fine perché mh qualunque discorso di innovazione o passa necessariamente da questo tipo di forze che hanno la forza per imporre ma forse un po' diverso da quello che hanno in mente penso che so io Alessandro Somma eh di di Ferrara se non sbaglio il giurista e penso ad altri autori studiosi che hanno in mente un'altra Europa ma non è l'Europa che ha in mente Salvini ecco quindi io la frase lì per me è molto significativa assolutamente anche perché sappiamo com'è facile poi che le etichette vadano a distruggere un intero percorso anche importante critico autorevole esattamente certo certo benissimo allora chiudiamo con con questo auspicio verso il mondo del del dissenso verso la costruzione di qualcosa di migliore e di autorevole che si riesca a staccare dalle etichette che il mainstream cerca di di affibbiare continuamente signori vi ringrazio della della splendida puntata un saluto all'avvocato Umberto del Noce buongiorno a tutti e al professor Luca Lanzalaco saluti a tutti ci vediamo alla prossima puntata Alla prossima